prendono posto possiamo cominciare allora l'ordine del giorno reca ai sensi dell'articolo centoquarantatré comma due del regolamento l'audizione della ministra dell'università e della ricerca Maria Cristina Messa sull'organizzazione dell'accoglienza di studenti ricercatori e docenti ucraini esuli informo che la pubblicità dell'audizione dierna sarà assicurata anche tramite la trasmissione sulla web tv della camera dei deputati all'audizione è consentita ai deputati la partecipazione dal remoto in videoconferenza secondo le modalità stabilite dall'aggiunta per il regolamento della camera dei deputati nella riunione del quattro novembre duemilaventi ricordo ai colleghi e alle colleghe che partecipano dal remoto che devono rendersi visibili soprattutto nel momento in cui svolgono il loro eventuale intervento che non possono collegarsi da luoghi aperti al pubblico o in cui siano comunque presenti altre persone né da mezzi di trasporto l'intervento deve essere udibile per cui occorre assicurarsi di disporre di una connessione internet stabile al termine dell'intervento della ministra darò la parola ai commissari che intendono svolgere considerazioni opporre domande unitamente a tutti i colleghi presenti ringrazio la ministra per la sua presenza e le do la parola per lo svolgimento dell'intervento della relazione grazie presidente cari deputati onorevoli vi ringrazio per questa possibilità eh di che ci ha dato anche l'impulso per mettere ordine nelle varie iniziative che stiamo facendo perché le iniziative sono molte eh l'università e la ricerca sono stati tra i primi a mobilitarsi eh per esprimere le manifestazioni di vicinanza al popolo ucraino in generale a tutte le persone coinvolte nella grave crisi di più così mi sentite meglio ok nella grave crisi politica umanitaria in atto quindi prima ancora dell'intervento governativo di cui parleremo a breve eh all'emergere della crisi si sono subito moltiplicate iniziative spontanee da parte delle università, delle istituzioni AFAM, degli enti pubblici di ricerca volte a sostenere nelle forme più varie e comunque con atti sempre concreti la permanenza degli studenti e dei ricercatori ucraini che a qualsiasi titolo ivi compreso il progetto Erasmus Plassa si trovassero in Italia. Non può non rilevarsi anche come il nostro paese ospiti numerosi studenti provenienti dal quadrante geografico colpito dalla crisi e come storicamente l'Italia abbia coltivato intensi rapporti accademici tanto con l'Ucraina quanto con la federazione russa. Solo nel duemila e ventuno quattro tenei nazionali hanno siglato accordi di cooperazione con sette istituti universitari ucraini e in generale i rapporti tra l'Italia e di paesi in questione sono definite da molte collaborazioni interuniversitarie che riguardano sia didattica formazione che ricerca che mobilità. Tra l'Italia alla federazione russa eh sono censiti settantatré accordi interuniversitari in corso. Ventisette sono con l'Ucraina e quattro con la bielorussa. Da queste collaborazioni sono gemmati ventinove corsi convenzionati tra le nostre università e quelle ucraine dieci corsi che rilasciano doppi titoli. Con la federazione russa abbiamo ben quattrocentottantanove corsi convenzionati e sessantasei corsi che rilasciano doppi titoli. Quindi i rapporti come vedete sono molto intensi e noi vorremmo evitare che a farne le spese siano gli studenti che hanno creduto in questo tipo di formazione. E quindi la presenza oggi sul territorio italiano di studenti ucraini e russi vede più o meno eh nella ehm censiti come ucraini nel nostro territorio trentun studenti Erasmus e novecentottantanove non Erasmus di cui ottocentodue residenti in Italia. Per quanto riguarda i studenti della federazione russa nel nostro territorio sono quarantotto gli Erasmus e trecentoquattro non Erasmus di cui novecento duecento novantaquattro residenti in Italia. Quindi di fronte a questo intenso scambio che ha determinato una costituzione di rapporti che abbiamo da tanti anni l'Accademia non poteva mostrarsi insensibile e ha valorizzato il principio di eh autonomia valorizzando il principio di autonomia universitaria eh ha agito da subito. Quindi eh un principio che come sapete è basato sulla libertà di insegnamento e sull'autonomia degli ordinamenti. In nome di tale autonomia le università, gli enti pubblici di ricerca e le istituzioni AFAM hanno potuto intraprendere con tempestività le più varie iniziative per far sì che gli studenti e ricercatori ucraini presenti in Italia al momento dello scoppio della guerra potessero proseguire nei loro percorsi di studio e di ricerca e se del caso ad esempio anche oltre la durata prevista per gli stessi. In questo contesto si è inserito l'intervento promosso dal ministero e condiviso dal governo di introdurre una misura specifica finanziata con fondi MUR volta a integrare e ulteriormente sostenere le iniziative delle università e degli enti di ricerca. Voglio rimarcare come questo intervento sia stato in modo fortemente anche simbolico una delle prime misure di sostegno adottate dal governo a seguito dello scoppio della crisi in Ucraina. Mi riferisco alla misura prevista nel primo decreto, il numero 16 del 2022, in forza del quale è stato istituito uno specifico fondo dello stato di previsione del MUR con una dotazione di 500 mila euro volto a sostenere sostanzialmente a titolo di cofinanziamento le iniziative intraprese dalle università, dalle istituzioni AFAM, dagli enti pubblici di ricerca a favore della comunità scientifica ucraina. A tal riguardo però voglio proprio ringraziare i componenti di questa commissione perché grazie a voi si deve la scelta fatta proprio dal Parlamento in sede di conversione del decreto legge di accrescere la consistenza del fondo sempre con onere a carico del ministero ma va bene, estendendola a un milione di euro e ne ha isteso anche le finalità. Questa scelta ha un forte valore non solo simbolico ma anche concreto in quanto studenti e ricercatori di altra nazionalità che però per questa crisi in atto hanno eh non possono proseguire propri studi eh possono accedere a questo decreto di accoglienza ehm e eh quindi i inclusi eh profughi in fuga da crisi politiche militare varie come Afghanistan oltre che Ucraina quindi indipendentemente dalla loro nazionalità o anche soggetti che in conseguenza della crisi in atto in Ucraina ehm ai quali in conseguenza di questa crisi sia stata concessa la protezione internazionale anche temporanea. Il significato più alto di questa misura è quindi quello che chiarisce in nome del principio universalistico tipico del mondo della ricerca fatto proprio dalla comunità scientifica internazionale che alle misure di sostegno possa accendere chiunque sia pregiudicato nella propria attività di studio di ricerca da eventi pellici o da gravi crisi politiche. Ci sono poi adesso ulteriori iniziative del nostro ministero. Nell'esercizio del potere di coordinamento che abbiamo nell'ambito oppure nell'ambito del regime di autonomia che circonda le università e gli enti di ricerca italiani stiamo intraprendendo delle iniziative dirette tra le altre cose a semplificare le forme di accoglienza per quanto di nostra competenza. Tra queste iniziative desidero segnalarvi che in procinto di avviarsi proprio oggi in queste ore uno specifico percorso informativo costantemente aggiornato a beneficio di tutte le istituzioni facenti parte del sistema della formazione superiore, IVI inclusa oltre a università e denti e AFA ma anche le accademie e le società scientifiche per accademia intendo l'accademia dell'incei e l'accademia dei quaranta per esempio, allo scopo di segnalare tutte le iniziative di solidarietà per docenti, ricercatori, studenti e dottorandi colpiti dalla crisi internazionale che abbiano l'esigenza di trovare un luogo aperto e sicuro in cui proseguire la propria attività di ricerca e di studio. Vorrei evidenziare in questa direzione che la nota del 27 febbraio che ho inviato i rettori dell'università italiana e i presidenti AFAM a quelli degli enti di ricerca con cui è stato chiesto di segnalare ogni tipo di disponibilità in particolare sotto forma di borse di studio e alloggi ha ricevuto già una risposta massiccia a dimostrazione del sostegno e della vicinanza e della solidarietà che la comunità scientifica nutre per il proprio ucraino. Si è sostanziata questa vicinanza in una disponibilità di ospitare approssimativamente 620 persone tra studenti, ricercatori e docenti garantendo il ricorrecimento di 580 borse di studio e per il resto invece sono alloggi e altre forme di sostegno. Ciò peraltro testimonia l'assoluta adesione delle istituzioni accademiche alle azioni di governo e che il MURRA sta intraprendendo. Alla voce della comunità accademica peraltro si è in alcune circostanze accompagnata anche alla manifestazione di solidarietà del terzo settore e degli enti locali. Con riguardo quindi al servizio informativo di cui vi ho accennato che sarà fluibile da oggi sul sito del MURRA anche in lingua inglese vanno segnalati i contenuti. In particolare questa piattaforma indicherà le misure normative adottate a finalizzare l'accoglienza di docenti, ricercatori e studenti ucraini in allenamento con le iniziative europee più ampie come quella che è nata adesso di IRA for Ukraine che è della Commissione europea. Le concrete proposte offerte di collaborazione, supporto e ospitalità che sono adottate dalle accademie italiane. I riferimenti utili per le misure generali e le informazioni adottate dalle amministrazioni pubbliche a favore della comunità ucraina distinte per argomento. Le disponibilità manifestate da università e enti e comparto a fama a seguito di questa richiesta del 27 febbraio di cui vi ho appena parlato corredate per ogni istituzione dalle informazioni relative al territorio di riferimento in ordine alle esigenze abitative, sanitarie, amministrative e altre informazioni in supporto. Il supporto alle istituzioni d'alta formazione nonché enti di ricerca e sistemi dell'accademia di cui vi parlavo prima in ordine alla collocazione di docenti, ricercatori e dottoranti e anche eventualmente di studenti. Potranno poi ottenere visibilità anche specifiche opportunità che il ministero sta identificando a favore dei docenti che si trovino in area rischio e che desiderino condurre le proprie ricerche e la propria attività di docenza nel nostro paese. Potrà essere pubblicato in particolare a breve un avviso su fondi FISRA che avevamo già allocato a questo scopo per un ammontare di circa un milione di euro che darà la possibilità di condurre, previa valutazione, progetti di ricerca biennale in Italia a questi accademici che si trovino in area rischio, allo stesso modo di come hanno già fatto a altri nostri partner europei. Sarà possibile in questo frangente dedicare peculiare attenzione a docenti e ricercatori colpiti dalla crisi in corso. Quindi è evidente che stiamo mettendo in serie una varietà di misure con la finalità di rendere più agevole l'incontro tra la domanda che viene da fuori e l'offerta di sostegno in ambito accademico. Con ciò si vuol dire che università, enti di ricerca, istituzioni AFAM che si saranno rese disponibili ad avviare percorsi di ospitalità in connessione con l'emergenza in atto, avranno un maggiore supporto da parte del Ministero in questo percorso. Al contempo potranno essere fornite indicazioni ad esempio in abito sanitario o amministrativo utile per i fruitori dell'ospitalità e per le loro famiglie. Le forme di accoglienza accademica per esempio potranno essere incarichi di visiting professor e research fellowship, borse di studio o anche altre forme di ospitalità avviate in autonomia dalle singole istituzioni anche come sembra dalle prime disponibilità emerse a seguito della riconnessione sempre del 27 febbraio con il coinvolgimento degli enti locali del terzo settore. La misura nel suo complesso è indirizzata ai seguenti soggetti sono come vi dicevo l'università italiana e gli enti di ricerca istituzioni AFAM che hanno attivato o intendono attivare iniziative di accoglienza a favore di docenti, studenti, dottoranti e ricercatori colpiti della crisi e anche a soggetti privati in grado di finanziare l'ospitalità dell'intera famiglia del docente interessato. Stiamo inoltre infine anzi collaborando attivamente con altri soggetti e istituzioni per rendere ancora più efficace queste misure di sostegno e ampliare il numero dei beneficiari e con l'involgimento di questi ulteriori attori speriamo garantirà la massima coerenza e uniformità dell'azione solidale e istituzionale. Grazie 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 a lei ministra passiamo al dibattito avverto che il tempo disponibile è stato suddiviso tra i gruppi per metà in parti uguali l'altra metà in proporzione alla consistenza numerica dei gruppi stessi darò come di consueto la parola a un deputato per gruppo secondo la consistenza numerica complessiva dei gruppi a partire dal meno numeroso per poi procedere eventualmente a un secondo giro di domande. Allora cominciamo dall'onorevole Carelli Coraggio Italia per cinque minuti. Sì grazie presidente grazie signora ministra per questa relazione che ho trovato sicuramente molto esauriente anche ricca di particolari. Lei ha ricordato che il ministero dell'università della ricerca ha istituito il fondo di cinquecentomila euro per finanziare le misure a sostegno per studenti ricercatori docenti ucraini affinché possano svolgere poi la propria attività presso università e denti di cerchi italiane che poi il Parlamento ha integrato e aumentato fino a un milione di euro. Sono molte le università in tutta Italia che hanno raccolto la chiamata e alcune come quella di Bologna hanno inoltre stanziato fondi propri in aggiunta a quelli del ministero. La stessa università di Bologna per dare da subito la possibilità agli studenti ucraini che hanno iniziato a attuato delle iniziative anche per snellire le pratiche di accoglienza introducendo ad esempio la lettera di invito per il dottorato così da non dover prendere parte ad una selezione pubblica. Ecco quello che vuoi chiedere le università si sono mosse però in modo molto individuale. Lei ha accennato anche a una iniziativa di coordinamento che è che istituisce da oggi questo percorso informativo. Ecco ci sono però diciamo così altre iniziative per rendere ancora più omogenee nel paese possibilmente più efficaci le iniziative delle diverse università. E poi vorrei chiederle l'università e la ricerca sono due temi chiave del piano nazionale di ripresa e resilienza sui quali sono già stati pubblicati tre bandi. Come prevedete di comunicare i dati e i risultati di questi e soprattutto l'impatto che avranno nel sistema universitario e della ricerca. Grazie. Grazie all'onorevole Carelli anche per diciamo la estrema sintesi. La parola adesso per il gruppo di Italia Viva all'onorevole Toccafondi per complessivi sei minuti. Grazie presidente ringrazio il ministro della relazione delle parole dell'impegno suo del ministero di tutto il mondo universitario della ricerca. Se non erro siamo al trentaquattresimo giorno di conflitto di invasione dell'Ucraina. In Italia ieri erano censiti e arrivati settantaquattro mila profughi rifugiati. Di cui ventinove mila bambini e trentottomila donne. Eh l'audizione di oggi e mi permetto soprattutto di domani con il ministro dell'istruzione eh serve a questo Parlamento a questa commissione per avere una prima visione complessiva visto su un tema che interesse oggettivo del Parlamento cioè quella dell'accoglienza. La vera accoglienza è certo l'alloggio certo l'assistenza sanitaria, medica, psicologica ma anche l'inserimento in un percorso e principalmente in quello educativo ehm anche perché e lo sappiamo tutti sperando che la guerra possa terminare subito comunque c'è una distruzione oggettiva e quindi non sarà semplice prevedere il ritorno di tutte queste persone e questa è solo una piccola parte di quello che si immagina potrà arrivare nei prossimi giorni e settimane un ritorno nel loro paese non non sembra oggettivamente imminente quindi il percorso di accoglienza deve essere appunto un percorso che tiene fermo alcune basi compreso quello dell'inserimento in un percorso scolastico e universitario eh rispetto a questo presumo che gli strumenti che dovranno essere messi in atto e quindi è anche una domanda devono essere duraturi e molto elastici rispetto alle esigenze e qui ci viene incontro la come dire un grande strumento l'autonomia universitaria eh su questo però ecco abbiamo capito la fotografia ad oggi se si può come dire percepire invece qualcosa da da domani in poi rispetto alle singole esigenze che arriveranno e ci saranno eh letto i dati del rispetto alla sua nota del ventisette febbraio lei ha chiesto di segnalare ogni tipo di disponibilità io capisco lo sforzo però se centoventi eh disponibilità a ospitare se centoventi persone tra studenti ricercatori e docenti rispetto al nostro diciamo percorso universitario degli enti di ricerca forse è possibile fare di più così come le cinquecentottanta borse di studio quindi da parte nostra come lei già ha evidenziato in precedenti eh atti normativi c'è la disponibilità a collaborare con il ministero per aiutare eh l'aspetto normativo e finanziario però penso che sia necessario già da ora strutturarci perché evidentemente le richieste aumenteranno ed è positivo che possono aumentare perché vuol dire che noi stiamo facendo realmente accoglienza cioè inserimento anche in percorsi educativi. Grazie. Grazie a lei eh onorevole Toccafondi la parola a onorevole Frassinetti a nome di Fratelli Italia per sei minuti. Grazie presidente e grazie signor ministro per essere oggi qui e per la relazione così dettagliata che ci ha fornito. Io vorrei porre il punto su una questione che non è farina del mio sacco ma mi è stata sollecitata da proprio da universitari ucrani da chi si occupa un po' di mettere in piedi questo eh corridoio accademico. Eh loro eh lamentano una situazione eh molto grave dicendo che eh il difficile portarli qui nel senso che c'è una situazione eh pericolosa e che eh sarebbe importante ehm mettersi in contatto con le università delle città di prima linea d'accoglienza. Mi parlavano di Varsavia, di Bucharest proprio perché il problema è riuscire a raccogliere un numero cospicuo dai trenta e cinquanta studenti per poi portarli in Italia ma eh loro proprio mi facevano presente l'importanza di creare queste città di prima dei dei raccordi con queste città di prima accoglienza eh perché la logistica è fondamentale quindi importante eh la commissione le richieste di borse ma alla fine eh non non bastano se non c'è se non si eh mette in moto questa concretezza nel toglierli da quei luoghi pericolosi e portarli qui. Eh un esempio che mi hanno fatto di di eh loro dicono che sentono sempre dire speriamo che arrivino speriamo che arrivino però loro dicono per arrivare eh bisogna dare molto molto più importanza a questi ehm passaggi direi propedeutici poi a eh mettere in atto tutte le altre iniziative lodevoli che ci sono state quindi eh io questo volevo segnalare eh per cercare proprio di ehm sbloccare questa situazione e riuscire ad avere dei gruppi consistenti di studenti da portare in Italia. Grazie. Grazie a lei onorevole Frassinetti. La parola ora all'onorevole Fusacchia per il gruppo misto per otto minuti complessivi. Grazie presidente ringrazio anch'io e saluto la ministra Messa per questa relazione puntuale. Io volevo fare un commento generale e poi so chiedere alla ministra un paio di cose molto più specifiche sulla scia di quello che hanno detto anche alcuni colleghi a partire dal collega Toccafondi. Eh il commento generale ministro è che non vorrei passasse troppo in sordina una cosa fondamentale che lei ha detto e cioè eh che la formazione insieme alla cultura sono le due assi strategici che uniscono a maggior ragione quando arriviamo in situazioni in cui nient'altro si parla. Lo dico perché eh anche nel nostro paese in questo momento le pulsioni a fare tutt'uno fra una persona e un paese eh ci sono ancora innegabile e quindi eh probabilmente questo non succede dentro mi auguro eh dentro le università dentro i centri ricerca diciamo nel paese eh inteso in senso più ampio non è così scontato che noi accogliamo ospitiamo aiutiamo degli studenti russi come lo facciamo gli studenti ucraini e invece credo che questo sia un messaggio ministra che lei ci deve aiutare vista la sua postazione a far passare con ancora più forza eh nelle settimane e nei mesi che verranno eh perché ovviamente il messaggio è appunto che che può essere quasi scontato in quest'aula ma che non lo è affatto là fuori è che eh quando tutto si chiude le possibilità di formarsi e di formarsi insieme o di fare ricerca di di insegnare eh la dimensione come dire della formazione dell'alta formazione insieme alla dimensione della cultura sono centrali. Questo glielo dico perché a me piacerebbe il collega Carelli prima ministro eh la la come dire la incoraggiava eh forse anche il collega Toccafondi mi permetto di dire come dire nel nel pieno rispetto che nessuno di noi dimentica mai dell'autonomia delle università ad un piglio e un coordinamento anche più forte eh io a questo ci associerei un elemento di visibilità ministro un po' più forte eh questo attiene probabilmente a non solo alla dimensione come dire del profilo istituzionale ma anche del del carattere personale però io penso che si parli troppo poco dei temi di cui stiamo parlando qui oggi e quindi io le chiederei anche di ragionare su sempre su nel prossimo futuro su qualche occasione in cui riusciamo a portare l'attenzione del dibattito pubblico in maniera più significativa tutta questa attività questa iniziativa che venga dal ministero che venga dal nel rapporto di collaborazione col Parlamento che venga dai singoli atenei centri ricerca però mi piacerebbe nella difficoltà di riuscire a entrare in un dibattito pubblico nazionale in cui non solo si parla solo di conflitto in Ucraina o di guerra in Ucraina ma all'interno di questo si parla solo di attacchi missili morti se noi riusciamo faremo un lavoro molto meritorio se potessimo capire come costruire occasioni che plasticamente raccontano questo lavoro impressionante che si sta facendo ma soprattutto che servirà a maggior ragione fare nel concreto infine eh penso anch'io che si possa e si debba fare onestamente meglio di 620 persone e qui capisco che non necessariamente dipende in prima battuta da lei però possiamo sicuramente insieme credo dobbiamo studiare un meccanismo perché qui io vedo che chiaramente c'è una dimensione di risposta all'emergenza per cui si fanno delle cose molto rapidamente per venire incontro a delle istanze molto specifiche però io credo e lo dico in positivo ovviamente eh usando con grande cautela la parola che sto per dire credo sia anche un'opportunità di rafforzare nel medio periodo i rapporti fra l'Italia e quell'area del mondo fra i rapporti fra l'Italia e l'Ucraina da un punto di vista di ricerca quindi se queste misure come dicevano alcuni colleghi ovviamente le concepiamo inevitabilmente come misure di emergenza che devono essere agili flessibili e che devono funzionare subito ma con uno sguardo una prospettiva anche ai prossimi anni sperando che ovviamente la situazione si si stabilizzi e si torni alla pace molto rapidamente eh io credo che in prospettiva sia un investimento importante perché a me piacerebbe che i nostri ragazzi e le nostre ragazze nelle università avessero l'occasione negli anni a venire dalla scuola all'università di crescere in ambienti sempre più multiculturali e quindi l'idea di rafforzare questa dimensione di progettuale strategica con ricercatori, professori, studenti di altri paesi in questo caso stiamo parlando di della situazione in Ucraina sia fondamentale e a questo riguardo oltre quindi alla dimensione di di ampliare la possibilità di risposta all'emergenza eh io credo che il progetto a cui lei faceva riferimento se ho capito bene rispetto alla ricerca a ricerca biennale da poter venire a condurre in Italia col finanziamento di un milione ecco a me parrebbe che qui servirebbe uno sforzo collettivo per metterci più risorse e per farlo in maniera più 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 massiccia più significativa perché è esattamente l'iniziativa di quello che lei ci ha raccontato che mi sembra poter fare perfettamente il ponte fra un ragionamento più di emergenza e un ragionamento più di medio periodo l'ultima cosa che volevo chiedere molto concreta nello spirito anche come dire puntuale della sua relazione ha a che fare con alcuni aspetti collegati col suo ragionamento il primo se in che misura ci sono dei mondi lei ha parlato del ministro del terzo settore degli enti locali però ci sono dei monti veramente contigui al mondo universitario che non ho sentito citare quindi volevo capire se sono automaticamente ricompresi però le cito uno gli spin off universitari quindi tutto il raccordo fra ad esempio mondo della ricerca in senso stretto e mondo dell'impresa che però parte dall'università perché poi qui quando andiamo a quindi a fare l'elenco ci scontriamo sul fatto che se Tizio Caglia stava classificato non come ricercatore studente poi magari abbiamo un problema di visto ci abbiamo un problema tanti problemi come dire concreti allora volevo capire se questi mondi quanto è flessibile quanto è agile questo spazio per portare i mondi contigui attorno all'università che noi ci siamo oppure dei centri privati che sono a metà culturali e metà di formazione e l'ultimo ministro noi abbiamo delle facoltà dei corsi di laurea una tradizione diciamo nel paese molto importante di interpreti e traduttori e quindi è chiaro che la maggior parte di queste persone che arrivano immagino ministro altrimenti mi dica lei il contrario parlino inglese e ovviamente stiamo lavorando come lingua franca con l'inglese però se vogliamo fare accoglienza e integrazione sfruttare utilizzare una scuola italiana importante interpreti e traduttori che possono essere valorizzati e quindi volevo capire in che misura per rafforzare la dimensione dell'integrazione come il disagio psicologico che ricordava il collega Toccafondi insomma tutta questa serie di dimensioni che sono apparentemente non strettamente collegate con l'attività di studio ricerca e insegnamento ma che fanno la differenza per capire con in che modo veramente riusciamo ad accoglierle integrarle quindi su questo pure volevo capire se c'è un ragionamento che il ministero sta facendo grazie grazie a lei onorevole Fusacchi adesso la parola eh per Forza Italia all'onorevole Aprea per nove minuti complessivi grazie presidente ministra messa eh colleghi io credo che di interpretare anch'io il sentimento eh di tutti i colleghi ma in questo caso di Forza Italia eh mio della dell'onorevole Gloria Sacaniotti che si occupa con me eh in maniera più diretta di università e ricerca ma eh di tutto il gruppo di Forza Italia per ringraziarla innanzitutto dell'atteggiamento e della disponibilità a eh prevedere misure straordinarie in questo momento che dire straordinario è veramente poco e eh ci troviamo di fronte ad un'emergenza umanitaria europea per la prima volta quindi stiamo trattando e e sicuramente eh una materia nuova molto sensibile e eh certamente ehm l'idea di creare anche eh delle connessioni e dei delle collaborazioni a livello europeo anche in termini di finanziamenti da un lato ci aiuta dall'altro ovviamente eh ci complica eh l'azione quotidiana perché dovremo tenere presente eh tutte tutta questa rete di interventi eccetera. Allora intanto benissimo ovviamente aver incentivato prolungato esteso tutte le iniziative che vedevano già collaborare le nostre università con studenti o docenti ucraini e della federazione russa sicuramente quando si parla di cultura e di formazione e di aiuti almeno noi non dovremmo distinguere tra eh oppressori ed oppressi anche perché comunque la situazione anche degli studenti della federazione russa in questo momento con tutte le limitazioni e eh le eh costruzioni che ci saranno certo non sarà eh 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 un momento facile neanche per loro ma parliamo degli ucraini in questo momento perché sono loro che scappano e che sono eh hanno una condizione privilegiata eh di profughi e eh e di rifugiati. Ecco allora ministra io ho solo un dubbio siccome eh la situazione è fluida flessibile eh imprevedibile io non non me la sentirei di trattare la situazione con gli stessi canoni con cui noi trattiamo ecco il progetto Erasmus i progetti canonici dell'Europa nel senso che mh in questo caso la la scuola ovviamente ha dovuto eh reagire diversamente cioè la scuola accoglie tutti quando arrivano i bambini accolgono eh l'infanzia eh scuole eh dell'obbligo scuole superiori ecco il mio timore è questo dettando ehm delle mappe dicendo che si può andare solo in università in una università piuttosto che un'altra forse noi limitiamo la nostra eh il nostro intervento e mi spiego meglio ehm eh sì non non possiamo immaginare ancora oggi con certezza quanto durerà questo periodo di ospitalità diciamo così di questi studenti e di questi docenti però arrivano con i corridoi umanitari arrivano eh eh con sistemazioni eh lo ha detto molto bene anche lei abitative e eh lavorative se si tratta di docenti o di studio che sono molto casuali e che appunto eh derivano da altri sistemi eh eh umanitari altri eh altre reti umanitarie che oggi sono in valo allora sarebbe molto triste sapere che ecco eh un corridoio umanitario che eh alla fine porta in una determinata realtà dove non c'è la disponibilità dell'università non in quel caso lì non si riesce a dare eh il supporto eh di studio di formazione perché le università di quel posto non ha dato la disponibilità allora eh possiamo vedere se invece eh con un rapporto più stretto con appunto eh le agenzie e la la protezione civile ma io sono sicura che l'avete già fatto però insomma magari favorire un po' di più protezione civile la rete del ministero dell'interno sapere con anticipo se arrivano studenti se arrivano docenti perché comunque queste reti hanno ben presente che arriva ecco e quindi chiedere un di più alle università di queste realtà di prenderli ma non solo per evidentemente con borse di studio o dando corsi eh di lezione magari ehm perché non sia un tempo un tempo perso studiare anche una validità di dei percorsi che ragazzi gli studenti faranno in questo in questo in queste nostre università perché non sia una permanenza soltanto ecco di accoglienza umanitaria e allora in questo caso perché abbiamo l'esperienza del del purtroppo del covid e del dell'emergenza sanitaria perché non ricorrere alla didattica a distanza perché in questo caso degli studenti magari accolti dalle nostre università eh magari con tutta una serie di collaborazioni potrebbero però anche organizzare uno studio di didattica a distanza con quei professori che chissà dove sono magari sono anche molto vicini o sono a Varsavia o sono nei nei nelle nelle eh regioni molto più diciamo europee molto più vicine nei in quei paesi molto più vicini insomma fare in modo ricreare una sorta di università parallela mi rendo conto che la cosa riesce meglio alla scuola che all'università eh ministra messa non 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 sto in questo momento sottovalutando eh eh l'organizzazione la complessità e tutto quello che è oggi l'università italiana però io direi come abbiamo reagito all'emergenza sanitaria ai lockdown e e e per quei per questi ragazzi un lockdown continuo per questi studenti e per questi docenti si sono visti togliere tutto da sera alla mattina quindi recuperare anche con o contatti con le università e attraverso la didattica a distanza oppure poter entrare liberamente nell'università più vicina al luogo dove vengono portati capire che cosa queste università possono fare secondo me non devono diventare non non penso come dire ad una sorta di eh centri di accoglienza attenzione però qualcosa di simile nel senso che in questo momento un di più di eccezionalità di intervento ma sempre per studiare per formarsi sempre capire ecco per esempio un tutoraggio questi ragazzi che studiano fatto cosa vorrebbero fare cosa hanno interrotto cioè aggiungere anche un po' di questi sistemi perché ehm potrebbero durare anche un anno due anni eh queste le potrebbero durare la permanenza e a loro che fanno non si laureano più non studiano più non hanno validità i loro percorsi quindi una una sorta di tutoraggio straordinario in tutte le università e se possibile un ricorso alla didattica a distanza eh con i docenti soprattutto con quei docenti ucraini che dovessero eh arrivare nel nostro paese poi sono d'accordo mediatori culturali eh docenti di lingua inglese qui dobbiamo utilizzare un po' tutto e quindi sarebbe bello insomma inventare qualcosa di nuovo andare oltre la eh gli schemi dell'università tradizionale classica fermo restando la 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 diciamo la serietà degli studi e la qualità degli studi che ovviamente eh non vorremmo mai mettere in discussione. Grazie Ministra buon lavoro. Grazie onorevole Aprea adesso eh per il partito democratico l'onorevole Di Giorgi dieci minuti complessivi a lei la parola è collegata da remoto non si sente il microfono l'onorevole Di Giorgio deve accendere continuiamo a non sentirla no non la sentiamo vediamo se c'è qualche soluzione provi a parlare no è priva di audio no non non la sentiamo è attivato ma noi non la sentiamo facciamo così provi eh riprovi a parlare adesso caso di tutto rumore no eh io provi a alzare il volume mi dicono scollegata ci sono obiezioni che passiamo all'onorevole Belotti per la lega dodici minuti complessivi e poi diamo la parola all'onorevole Di Giorgi quando sono sono sintetico eh grazie ministro per la presenza e come ha riferito nella sua relazione ci sono all'incirco un migliaio di studenti ucraini e circa 350 russi di cui 48 con con l'Erasmus mi soffermo in particolare su questi russi che con il blocco del sistema bancario hanno delle grosse difficoltà a far fronte all'appagamento della retta e ma anche della vita quotidiana dall'alloggio ma per qualsiasi cosa visto che nessuno penso che qui li voglia incolpare di essere russi mh c'è un programma per venire incontro alle minime necessità di sostentamento di questi studenti questo semplicemente questo grazie onorevole Belotti eh vediamo se l'onorevole Di Giorgi eh allora se non è ancora arrivata direi che passiamo a Melicchio Movimento Cinque Stelle grazie presidente credo che siano soddivisi bene innanzitutto il mio apprezzamento per l'operato del governo che è stato assolutamente pronto e efficace nella risposta alla crisi sia con il eh decreto legge sedici del ventidue e così come le iniziative proprie del del ministero dell'istruzione di cui ci parlava durante eh la relazione. Eh dei progetti di ricerca dual use di cui si è parlato nelle scorse settimane eh su quanti e quali tipi di progetti sono stati sospessi eh così come eh su eh se ce ne sono mi auguro di no eh di di studenti italiani che si trovino in questo momento eh in Ucraina fra quelle poche decine eh o eh in Russia e Bielorussia. Eh tanti tanti colleghi hanno già citato le iniziative di diverse università italiane che sono messe in moto, hanno messo in moto la macchina degli dell'accoglienza istituendo borse di studio mh e tante altre iniziative per accogliere questi questi studenti ucraini e e una sono delle iniziative assolutamente eh molto apprezzabili. Ehm fra eh le proposte che ehm sono balzate eh agli occhi eh c'è quella del rettore dell'Università di Perugia che ha proposto un eh uno strumento diverso da quelli da quelli attuali eh cioè prevedendo eh un un progetto Erasmus rimodulato un progetto Erasmus speciale che come dire contribuisca maggiormente a eh a un' integrazione eh degli studenti ucraini che eh arrivano arrivano in Europa e quindi ehm mi chiedo se sia possibile pensare a una ehm a un progetto diversamente modulato che come dire li faccia uscire dalla dimensione maggiormente di eh profughi rifugiati e li avvicini eh ma ancor di più a hm diciamo gli gli restituisca ancor di più la dignità di di studenti e ricercatori. Grazie. Grazie eh adesso eh riproviamo con l'onorevole Di Giorgi che è tornata vediamo se funziona. Sì adesso finalmente sentiamo quindi la parola. Bene grazie. Grazie mille. Eh ringrazio moltissimo la ministra perché ci ha dato questo quadro, questo monitoraggio a livello nazionale che era molto utile avere perché appunto avevamo informazioni dalle varie università, dalle vari territori, però ci mancava eh questo quadro generale rispetto ai a coloro che attualmente sono eh nel nostro paese. Ecco io pongo subito un tema. Il tema è quello che ehm ha posto anche il collega Fusacchia ma che anche a me interessa moltissimo. Ossia cerchiamo di mantenere questo canale aperto. La ministra l'ha detto all'inizio e ha detto che è stata la prima iniziativa, lo ricordo bene, la prima iniziativa del nostro governo rispetto agli investimenti su questo fronte. Ecco perché riteniamo tutti eh so che i colleghi della eh commissione la pensano come me così come al ministero e al governo che ehm la la ricerca scientifica, l'università, la formazione, la conoscenza, la scienza siano ehm qualcosa di universale da cui non possiamo mai prescindere proprio come elemento di scambio, elemento di pace. Pronuncio proprio questa parola, elemento di pace fra le nazioni. Quindi l'ultima cosa che si deve fare, infatti credo eh che su questa scia non ci stiamo muovendo e benissimo che così sia, non ci devono certamente essere sanzioni relativamente agli interventi e a quanto interessa l'università, la scienza, la ricerca. I gruppi di studio devono continuare a lavorare, c'è molta interconnessione come ci è stato ricordato con tutti i corsi che abbiamo ehm in 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 ehm con anche con la federazione russa, ovviamente con l'Ucraina, quindi paesi eh con i quali in questo momento, e parlo, mi riferisco ovviamente soprattutto alla Russia, paesi con con cui in cui in questo momento perlomeno questo filone eh non va interrotto. Questo è fondamentale perché è attraverso eh eh la la mantenimento eh di 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 filoni di intervento e di e di ehm e di attività comuni che si può a ricostruire questa eh ricostruire un ambito che in questo momento sembra così compromesso ma che è anche nostra responsabilità far sì che non venga compromesso. Quindi molto importante in questo momento il ruolo del ministero eh dell'università e della ricerca. Eh in questa fase eh sappiamo che purtroppo eh non ci sono i giovani maschi che arriveranno perché i giovani maschi sono rimasti in Ucraina e sono rimasti tragicamente a combattere e a dare una una mano nel territorio martoriato. Quindi noi ci troviamo probabilmente ma questo è un tema eh di cui chiedo alla ministra eh ci troviamo nella condizione caso mai di accogliere soprattutto ragazze eh donne che magari sono venute figlie che sono venute con le proprie madri o con i propri fratelli. Abbiamo sentito alcuni casi in televisione di ragazze partite con i fratellini più piccoli eh sono venute qua in Italia. Quindi avremo un problema eh probabilmente di eh di di donne, di studentesse in misura maggiore in questa prima fase. Eh naturalmente il prima possibile, speriamo che si interrompa la guerra e che anche gli altri giovani che hanno università devastate e che quindi non potranno studiare possano venire nel nostro paese, si possano spostare in Europa sempre con con l'auspicio che il prima possibile poi ci possa essere la ricostruzione nei loro paesi. Ecco io eh credo che dovremo eh dare molto spazio, l'abbiamo, l'hanno già detto i colleghi, molto spazio all'autonomia delle università, degli enti pubblici di ricerca, delle AFA, perché in realtà delle accademie, di tutti i luoghi di scienza e di cultura, perché è attraverso il loro intervento che casi particolari che possono essere unità o decine eh di persone possono essere accolte nei modi più ehm più variegati nel nostro paese e per eh attivare o per continuare i propri percorsi di studio. E naturalmente è molto importante un collegamento, Ministra, e questo le chiedo, un collegamento con la conferenza Stato-Regioni, perché sappiamo che la parte relativa alle borse di studio, agli alloggi, è da questi, da queste istituzioni che viene ehm gestita, abbiamo esempi già eh lodevoli già nei primi giorni, io eh cito la regione toscana perché conosco più questa situazione, sono già circa centotrenta ehm i posti che sono stati messi a disposizione, le mense universitarie, cioè tutto quello che è tutto gratuito naturalmente per questi giovani eh che è che già sono qui per altri appunto altre che giungeranno e quindi il massimo della disponibilità eh ma eh naturalmente anche una programmazione seria, un intervento anche a supporto delle misure di natura economica che mette a disposizione il Ministero da parte delle regioni che hanno il compito anche di garantire nei territori insieme ai comuni, insieme al terzo settore come bene veniva detto ehm una la la permanenza di queste persone eh nella nostra nazione. Io credo eh che sia molto importante attivare nuovi progetti di ricerca eh si parlava di questi progetti biennali ritengo che siano utilissimi appunto tra università e denti. Abbiamo esperienze attive che devono essere tenute in vita, devono essere, bisogna continuare a lavorare su questi fronti in in modo tale che ancora una volta noi come eh ambito dell'università, della ricerca, della conoscenza, dell'istruzione in generale riusciamo a dare il messaggio giusto in questo momento così drammatico per la nostra civiltà. Grazie. eh grazie a lei onorevole Di Giorgi allora a questo punto do la parola all'onorevole Bella che ha ancora una parte del tempo disponibile per il suo gruppo. Eh grazie presidente io mi associo alla collega di Giorgi quando ha pronunciato fortemente la parola pace e questa è la parola che vogliamo veramente penso che ci unisca anche nella nostra e nelle nostre diversità. Eh al momento però non c'è la pace c'è una crisi umanitaria veramente grave che colpisce le persone più fragili e tra queste sicuramente le studentesse universali sono tra le persone fragili e sono è stato molto bello che il nostro paese che è così diverso e anche un po' così litigioso su un argomento del genere si sia veramente unito e abbia saputo dimostrare che abbiamo un cuore grande però l'accoglienza deve essere anche strutturale cioè noi noi è chiaro che l'emergenza è accogliere i profughi però noi non sappiamo con questa crisi umanitaria purtroppo non possiamo sapere quando finirà e quindi abbiamo bisogno che queste persone che possano proseguire il loro percorso formativo deve essere un'accoglienza ragionata ok? Non eh vogliamo dare un aiuto vero e in questo ambito diciamo io domani eh ho organizzato una conferenza stampa una persona che penso lei conosca bene che è la professoressa Olena Motuzzenko dell'Università di Kiev è una conferenza stampa ovviamente senza alcun cappello politico è semplicemente l'organizzativo materialmente alla quale invito pubblicamente tutti i gruppi parlamentari e la professoressa Motuzzenko è tra l'altro che parla anche molto bene italiano devo dire veramente incredibile sono la sua cultura e l'abbiamo conosciuta tramite il professor Maurizio Riviero il rettore di Perugia e tramite il professor Tira che è il rettore dell'Università di Brescia ma soprattutto è la persona che all'interno della CRU si occupa di internazionalizzazione lei ha parlato di bellissime iniziative però è anche importante che queste iniziative siano conosciute e il nostro sistema universitario ha un problema enorme di alloggi quello è uno dei problemi principali e soprattutto in questo momento trovare alloggi universitari è veramente complesso però eh chiaro che sono pochi quando parliamo di 600 posti in questo momento voglio dire in questo momento ma io so che ci sono tante famiglie che veramente in quest ora vorrebbero aiutare allora se noi possiamo metterle in contatto e fargli conoscere queste iniziative per esempio con questo sito che voi avete predisposto e quanto prima io penso che tutti dovremmo dare la massima visibilità a questo sito noi potremmo raccogliere molte disponibilità ovviamente vagliare queste disponibilità perché l'accoglienza di persone fragili va fatta anche con molta attenzione qui fortunatamente non non abbiamo dei minori quindi abbiamo un problema in meno a cogliere minori diventa ancora più complesso però qui comunque parliamo di persone maggiorenni e sicuramente questo sito questo dovrebbe essere tipo un database da quello che capisco eh è fondamentale perché a questo punto ci permette di incrociare chiamiamola così offerta e domanda eh serve ovviamente servono le università serve l'impegno di tutti però una crisi così la dobbiamo fronte fronteggiare in ogni modo e quindi bene gli stanziamenti è ovvio che questi qui sono dei cofinanziamenti utilissimi e ovviamente dobbiamo eh vedere come cioè questo qua è chiaro lei lo ha spiegato bene è una prima tranche perché ci troviamo di fronte diciamo un milione distribuito su decine di migliaia di prof ucraini eh è pochissimo ecco anche se soltanto parliamo di questo qua è un milione soltanto per gli universitari quindi ma comunque diciamo possiamo farlo quindi io eh veramente faccio un appello a tutti facciamo l'impossibile ma non lo faccio soltanto qua lo faccio anche a chi ci ascolta diciamo da casa e domani se potete venite anche soltanto un minuto in sala stampa alla camera deputati dalle quattordici alle quindici magari per dimostrare un pochino la la vostra grande solidarietà alla professoressa Motuzzenko e indirettamente a tutto il popolo ucraino vi ringrazio grazie grazie a lei onorevole Bella a questo punto sono conclusi gli interventi do la parola alla ministra per la replica sì grazie vado in ordine di interventi per rispondere più compiutamente onorevole Carrelli sicuramente dobbiamo rendere ehm maggiormente omogenea eh la eh questa diciamo ehm accoppiare domanda a a richiesta e eh quello che ci che vogliamo fare attraverso il sito attraverso eh questa eh iniziativa di cui vi ho parlato che eh uscirà oggi teniamo anche conto che ci sono delle organizzazioni poi ehm degli Atenei stessi è stato citato il profetto professor Tira che è il delegato dell'internazionalizzazione della Crui che ha una serie di dati eh le accademie l'accademia dell'Incei l'accademia del quaranta stanno sono in continuo contatto con noi quindi dobbiamo raggruppare eh tutto questo e cercare di coordinarlo meglio quello che stiamo cercando di fare adesso diciamo che nel primo mese abbiamo cercato come si fa per prima cosa di rispondere all'emergenza non credo sia argomento dei bandi pubblicati da PNR ma mi fa molto piacere risponderle che eh a entro eh giugno noi avremo la valutazione dei progetti presentati e quando avremo la valutazione sicuramente pubblicheremo tutti i dati relativi a questo eh onorevole toccafondi è vero non sono tanti eh non sono tante neanche le richieste in questo momento come puoi immaginare per cui io credo che questo è un primo eh eh lotto diciamo così eh che eh essendo che eh arrivano sì tantissimi profughi ma eh non sono nell'età universitaria e mancano purtroppo i ragazzi questa è una cosa tristissima eh che conosciamo eh per il momento noi non abbiamo occupato questa disponibilità quindi è chiaro che dobbiamo metterla a a frutto meglio ehm e eh diciamo lavorare in maniera molto flessibile per cui si aumenta dobbiamo aumentarla eh si aumenta la richiesta però voglio dirvi una cosa il popolo ucraino che abbiamo visto è molto fiero eh agisce con grande dignità ha già messo in atto eh una sorta di eh eh didattica a distanza con le stesse università quindi eh questo è da tenere presente anche nella nel proseguo e nel follow up noi questi ragazzi non è che li prendiamo come come rifugiati eh senza dare loro la formazione no proseguono i corsi dei studi sono iscritti regolarmente ai corsi e fanno i crediti formativi e arrivano la laurea questo attraverso le borse di studio e gli alloggi ma sono sicura che eh l'università ucraina io ho parlato con il ministro mio corrispettivo ucraino già a due settimane tre settimane fa quindi all'inizio vorrà rimettere in piedi il proprio sistema in qualsiasi modo a qualsiasi conto quindi anche questo andrà visto insieme a loro ehm per quanto riguarda eh poi ehm le i percorsi invece della della ricerca la disponibilità a a avere maggiori fondi per la ricerca questo sicuramente eh diciamo che noi abbiamo avevo già riservato questo milione dal FISR per eh il cosiddetta l'associazione Scholars at Risk quindi per tutte quelle popolazioni a rischio eh eh per una serie di motivi politici o anche di disastri naturali eh per cui quello è già disponibile una somma che già c'è ma chiaramente se poi la domanda aumenta aumenteremo anche quello il problema e ha ragione l'onorevole Frassinetti è anche far arrivare questi studenti ehm sicuramente ehm abbiamo eh un flusso eh diciamo così che eh probabilmente deve passare deve farci connettere con le luoghi di prima linea eh non l'abbiamo fatto per il momento se non per rapporti personali che tutti i professori come sa fra di loro si parlano però possiamo strutturarla in maniera eh più arrivata ma sicuramente c'è una grande difficoltà ad arrivare nel nostro paese e ehm e su questo ovviamente il ministero può fare fino a un certo punto ma bisogna lavorare eh con protezione civile con gli esteri con il ministero degli esteri con il ministero degli interni perché anche in questo senso eh per gli ucraini meno ma per gli altri studenti di altre nazionalità che pur hanno perso tipo russi ma anche abbiamo visto i studenti eh che eh venivano dall'Africa e che erano in Ucraina a studiare e la difficoltà dei visti è enorme quindi io sollecito molto i miei gli altri ministeri per aiutarci. Onorevole Fusacchia eh appunto eh ricerca e studenti russi noi abbiamo optato da subito per non mandare via nessuno e eh per mantenere le doppie i percorsi di doppia laurea che ci sono già. È chiaro che non se ne fanno di nuovi con la Russia in questo momento. Eh aspettiamo e vediamo. Però tutto quello che c'è proprio per non andare a discapito degli studenti eh continua e questi studenti russo eh russi onorevole Bellotti eh al momento vengono eh esentati dalle tasse eh in cui sono state eh prorogate e aiutati a livello locale. Sicuramente eh quando abbiamo fatto la raccolta anche di questa situazione che sto chiedendo adesso attraverso il sito eh vedremo come eh sarà necessario ma le l'università a livello locale lo hanno già fatto lo stanno già facendo sia eh 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 sia attraverso le tasse che anche aiutandoli con il problema del cash perché effettivamente eh c'è un grosso problema attraverso le reti di solidarietà locale. Eh quindi questo l'abbiamo già eh deciso. Eh lo sguardo ai prossimi anni eh sicuramente dipende da eh anche che cosa vorranno gli ucraini. Noi dobbiamo lavorare insieme a loro per capire come aiutarli. Ehm e ehm per quanto riguarda le due domande cioè mondi contigui e interprete traduttori, mondi contigui eh io credo che eh eh sicuramente vanno sollecitati al sempre attraverso il sistema pubblico chiaramente perché questo è quello che noi facciamo ma è una buon suggerimento e lo facciamo senz'altro. Interprete e traduttori parlavo appunto con sindaci e il problema di trovare interpreti per i bambini che vanno a scuola è enorme e eh quindi ehm sono già tutti praticamente in azione. Eh potremo ulteriormente sollecitare attraverso sia la rete dell'università che degli AFAM e delle scuole tipo scuole civiche, scuole di traduzione, lo facciamo senza. Onorevole Aprea ehm è vero eh l'accoglienza eh non vuol dire eh semplicemente eh eh dare rifugio ma è continuare col percorso e questo è chiaro a tutti noi quindi gli studenti che hanno già iniziato il loro percorso lo continuano qua regolarmente iscritti, nuove studenti pure potrebbero essere immatricolati al di là anche dei numeri programmati che abbiamo questo è un sicuramente si fa così come il proseguo dei loro studi viene garantito eh magari cercando di riconnetterci con l'università di provenienza per per il rispetto anche dei nostri colleghi ucraini eh e abbiamo un rapporto continuo con la protezione civile quindi eh eh penso che anche attraverso il rapporto con loro avremo meglio il quadro della situazione anche per aiutarci a avere il gli studenti qua eh la DAD è lo strumento fondamentale non eh non credo allora quasi tutte le università offriranno borse di studio sarà molto difficile vedere dei miei conoscendo eh il nostro sistema eh così come eh il l'utilizzo della DAD eh è già in corso adesso e continueremo a farlo. Onorevole Velotti le ho risposto. Onorevole Melicchio. Allora, date sui progetti di ricerca sospesi eh le università non avevano più che progetti di ricerca avevano accordi di collaborazione per la formazione fondamentalmente come ho detto quelli che riguardano la formazione e la doppia laurea sono continuano ma non se ne fanno di nuovi. Per quanto riguarda la sospensione di progetti che possano avere un impatto no? E che possono essere a rischio questi sono soprattutto grandi progetti europei e lì stiamo seguendo la eh diciamo la eh le regole europee o comunque quello che è stato eh avrà visto la commissaria Gabriella ha già delineato e noi siamo molto ehm in linea con queste ma per darle un esempio quello che si sta tentando di fare oggi di nuovo è eh non fare accordi nuovi eh non rompere del tutto la collaborazione per evitare che i ricercatori russi che lavorano per esempio al Serna piuttosto che a Ginevra piuttosto che da noi debbano andare a casa con un grosso contrasto a livello europeo perché ci sono stati molto severe su questo che hanno già diciamo tagliato tutti i ponti noi abbiamo tenuto invece una linea di eh uso di questi ponti come ponti di pace quindi abbiamo evitato questa cosa eh e così stiamo continuando quindi non c'è assolutamente l'intenzione di eh interrompere tutti i rapporti con la con la Russia soprattutto quello che riguarda poi le persone i singoli un conto in governo un conto sono le persone ehm eh chiaramente poi se ci sono delle eh dei progetti delicati a rischio nella cyber sicurezza eccetera questi ovviamente devono eh per ovvi motivi essere interrotti ehm in compenso in tutte queste grandi organizzazioni internazionali la Russia non è più coinvolta nelle decisioni dei board nelle decisioni dei comitati eh scientifici perché chiaramente in questo momento eh questo non è possibile. Onorevole Di Giorgi quindi questo ha risposto un po' anche a lei ehm e ehm e un buon suggerimento quello quanto riguarda ricerca e formazione un buon suggerimento è quello di collegarci con la conferenza Stato-Regioni eh non abbiamo ancora avuto occasione quindi occasione con singoli presidenti di regione ma non all'interno della conferenza e anche questo eh possiamo farlo eh rapidamente per eh diciamo eh essendo le regioni abituati a lavorare col diritto allo studio si può attraverso questo strumento eh che già fanno eh mettere a frutto eh i fondi che abbiamo messo e onorevole Bena sicuramente ho visto purtroppo non potrò essere presente ma ho parlato con la professoressa eh è molto importante questo rapporto perché appunto eh è quello che poi delineerà la eh l'accoglimento a lungo termine diciamo così eh di delle delle studentesse, delle ricercatori, delle ricercatrici ucraine perché per diventare strutturale va fatto insieme non è che noi possiamo decidere che eh aumentiamo il nostro numero di laureati o di professori eh eh mettendo nei nostri percorsi eh persone che hanno perso tutto nel loro paese. Lo facciamo se questo è fatto anche per far recuperare il loro paese. Quindi è una ehm una azione che secondo me va fatta proprio insieme a loro e sono contenta che ne parlerete domani è un popolo estremamente fiero che ha tutte le intenzioni di ricominciare. Grazie Ministra la ringrazio ancora una volta per la sua presenza e il suo contributo e dichiaro conclusa l'audizione. Grazie. Grazie. Grazie.